Ciao a tutti ragazzi, sono io a Tommaso e faccio parte di Milano dei Migliori, parlo piano perché come vedete dall'orario qui dietro di me è mezzanotte ai lunici, è appena passato, ho appena compiuto 12 anni ragazzi, ho 12 anni ufficialmente, fino a qualche minuto fa, fino a 10 minuti fa ne avevo ancora 11, adesso ne ho ufficialmente 12. Volevo solo ricordarvi che domani saremo in live, alle 10 faremo urbex in live ragazzi alle 16 però una brutta notizia, Riccardo non può venire perché ha dei parenti che sono positivi al covid e dopo alle 21 faremo la live del taglio della torta, tutte queste live le faremo nel secondo canale, vi lascio qui sotto in descrizione il link del secondo canale. E niente, ci vediamo tra adesso mezzanotte, la live è dalle 10 o alle 11, quindi ragazzi ci vediamo tra, non lo so sarà, se è mezzanotte, ci vediamo tra 10-11 ore in live, ciao.